Siamo tutti conosciuti che questo giorno sarebbe arrivato. Patrick & Friends, il 6 agosto a Torre Grande. Vi aspetto tutti sabato 6 agosto a Torre Grande per il Patrick & Friends. E ricordatevi, gli amici si vedono nel momento del bisogno. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti al Patrick & Friends. Non mancate! Mi raccomando, tutti al Patrick & Friends a Torre Grande e a Oristano. Vi aspettiamo sabato 6 agosto al Patrick & Friends a Torre Grande. Non mancate! Ciao! Ciao, ciao a tutti! Mi chiamo... Ok, buona notte, buona notte. Mi chiamo Gemma Giura e sono molto felice di essere parte di... Ok, come... Hello! Patrick & Friends, questo settembre settembre. Ok, come... In Torre Grande! Sì, ci vediamo! Mua! Sì, ok, ok, ok. Cosa è appena? Cosa è appena? Cosa è appena? Uè, testine! Vi aspetto per il 6 di agosto al Patrick & Friends. Sempre se riesco a finire la chitarra. Amici rocchettari e amici non rocchettari, vi aspettiamo sabato 6 agosto a Torre Grande al Patrick & Friends. Non mancate! Ve lo chiede anche Willy Willy l'orbo Ciao ragazzi Ci vediamo se è agosto La Torre Grande Per il Padre Cabata in France 2022 Alle 21.30 in punto Me la commando Non mancate Realmente così magari diventi famosi Allora smettiamo di mangiare torne cipolle Hi this is Scott Rowe From Culprit And I'm here hanging out At the beautiful Patrick Abate Casa In beautiful downtown Palm Springs Just wanted to remind you all To go see Patrick Abate and friends On August 6th in Torre Grande Be there Vi aspetto il 6 agosto A Patrick and Friends When's the Patrick and Friends concert? August 6th And where's it gonna be? At Torre Grande Where though? Where in Torre Grande? Here Bravo Ciao a tutti Partecipate anche voi Al Patrick and Friends Il 6 agosto A Torre Grande Porca troia Patrick e anche gli amici Mi raccomando ragazzi Patrick and Friends 6 agosto Marina Torre Grande Marici vi aspetto il 6 sabato al Patrick and Friends Sarà uno spettacolo fantastico anche perché finalmente scopriremo chi cazzo è Patrick Hi kids Ruth McCartney here from McCartney Studios live in Los Angeles California This is an order If you're anywhere near the gorgeous Sardinia Or the fabulous Patrick Abate Get your ass to Patrick and Friends this Saturday August 6th Hope to see you all there Vi aspetto il 6 agosto al Patrick and Friends Tanto una serata in più Ti odio tantissimo Patrick Saffido ti odio tantissimo I'm Martin Nethercutt of Geist This Saturday August 6th Patrick and Friends Be there You want to know what it sounds like? Check this out Be there Be there Ciao ragazzi Sono Marco Corso che aspetto il Patrick and Friends Sabato 6 Sabato 6 agosto A Torre Grande Ci saranno i Patrick and Friends Finalmente una serata tosta ed eccitante Vi aspetto sabato 6 agosto al Patrick and Friends Ciao a tutti Vi aspettiamo sabato 6 agosto a Torre Grande Per il Patrick and Friends 2022 Per una serata di buonissima musica Ciao Anche io Anche io 6 agosto sarò il Patrick and Friends Ciao a tutti Ecco qua Mi sto facendo bella Perché sabato 6 agosto a Torre Grande C'è il Patrick and Friends E ci sarò anche io Anche io Vai Patrick and Mate Grande Ci vediamo sabato 6 Grande Oh hi everybody I'm practicing for the upcoming Patrick and Friends show August 6th in Torre Grande It's going to be a lot of fun See you there Ciao a tutti